Per far crescere il vostro canale YouTube Mi scriverò i consigli di tutto quello che ho imparato su YouTube in questi anni Io vi saluto, spero di rivedervi presto Quanti chili sono? Un dibattito sullo peso di Leo Quanto sono 6 once? Sì, 6.1 e 2.7 Guarda, guarda, tu hai due donne che mi stanno alzando le mani Guarda, guarda, questa è violetta Stiamo andando a mangiare fuori A me mi è appena arrivato il merchandise di Lil Xanax Però lui adesso ha insultato Tupac E quindi probabilmente odiano tutti i Lil Xanax Ma in America mi picchieranno stasera Amore, se me lo fai, ti giuro Cosa? Mi stacco il cazzo Amore! Stai facendo finta da mezz'ora? Allora, vi racconto un aneddoto sul PA Praticamente lui sa tutto Cioè, adesso stavamo parlando di un amaro E lui sa che lo fanno solo in Valtellina No, lo vengono a Livigno Ah, a Livigno Stai facendo un aneddoto sul Grazie a tutti.